Da oltre 30 anni, la nostra ditta riflette su quali e quanti significati debbano avere le parole filosofia aziendale, vasta gamma di prodotti, automazione dei processi, reali esigenze e formazione continua. Siamo convinti che debbano avere due significati distinti. Uno per i clienti, voi, ed uno per la stampo, noi. Per voi, devono rappresentare consiglio e sostegno. Per noi, ricerca delle migliori soluzioni possibili. Per voi, aiuto in ogni acquisto. Per noi, monitoraggio di ogni fase della lavorazione. E ogni cliente soddisfatto rappresenta una missione compiuta. Stanford, for maximum performance. Stanford, for especialistaーチ Hrio